Per la prima volta il Teatro Stabile d'Abruzzo debutta a Pescara con un viaggio nel teatro, rassegna dedicata all'infanzia che prenderà il via domenica 22 ottobre. Sei spettacoli portati in scena da compagnie abruzzesi che calcheranno il palcoscenico del Teatro Cordova di Viale Bovio, come spiega Giorgio Iraggi, direttore amministrativo del TSA. Si tratta per la prima volta dell'inaugurazione di una stagione teatrale che il Teatro Stabile d'Abruzzo organizza qui a Pescara, grazie al Comune di Pescara, alla LAD che è la società che gestisce lo spazio e grazie a noi che abbiamo contribuito a rendere fruibile questa sala teatrale. Si tratta di appuntamenti per l'appunto di Teatro Ragazzi che noi di buon grado proponiamo alla città di Pescara perché è una delle mission del Teatro Stabile d'Abruzzo, quella di lavorare su tutto il territorio regionale, di creare il pubblico del domani per il teatro e di collaborare con tutte le istituzioni culturali, professionali e teatrali della regione Abruzzo. Non a caso tutti i sei appuntamenti sono prodotti da compagnie che collaborano con noi da anni nell'ambito di un grande progetto che abbiamo chiamato Sistema Cultura Abruzzo. Siamo grati di questo a chi ci permette di essere qui, intanto lo ripeto il Comune di Pescara perché ha contribuito e il Comune dell'Aquila naturalmente che ci finanzia ed è socio e la Regione Abruzzo che è il nostro socio fondatore. Il nostro orgoglio è quello di cominciare a fare una cosa a Pescara che poi speriamo si renda duratura e possa proseguire nel tempo. La rassegna è patrocinata dal Comune di Pescara come annunciato da Maria Rita Carota, Assessore alla Cultura. Nella nostra città serviva, a mio modo di vedere, l'intervento dell'istituzione pubblica in un settore in cui la produzione è molto importante e quindi se può essere questo un modo anche per vivacizzare e sostenere ancora di più un'offerta culturale cittadina anche in termini di produzione già importante, credo che sia compito dell'amministrazione favorire le migliori condizioni affinché ciò si realizzi. Alla conferenza stampa di presentazione della rassegna hanno preso parte anche William Zola, direttore artistico del Teatro Cordova, Mario Fragassi, regista e coordinatore artistico della rassegna e Margherita Cordova, responsabile culturale della Comunità LAD di Pescara. Noi abbiamo inaugurato nel 2019 questo spazio che è frutto di una convenzione tra il Comune di Pescara, il Teatro Stabile e la Comunità LAD. Da allora sono state moltissime le iniziative, il cartellone è sempre stato molto ricco.